Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. La propaganda in guerra è un elemento fondamentale e credo di non avervi detto niente di sconcertante. E la propaganda in guerra si nutre sì di armi, tecnologie per dimostrare di essere superiore all'avversario, di grandi imprese belliche, di conquiste per dimostrare che la guerra va bene, ma si nutre soprattutto di eroi, cioè si nutre di uomini, talvolta di donne, che durante la guerra si sono comportati in un modo particolarmente coraggioso, particolarmente intelligente, dimostrando la loro superiorità sul nemico. Eroi che non solo dimostrano che la guerra la si sta vincendo, o quantomeno la si sta combattendo bene, ma che sembrano quasi, per la propaganda del paese che li sfrutta, un simbolo da dare in passo alle folle. Come dire, ecco, questo è ciò a cui dovete tendere, questo è l'eroe che tutti voi dovete diventare per il vostro paese. Inutile dire che durante la seconda guerra mondiale anche la propaganda fascista si nutrì di eroi, di soldati, di marinai, di aviatori, che venivano premiati per le loro imprese, comparivano su foto, cartoline, materiali propagandistico, libri, talvolta addirittura film e fumetti per i bambini, e diventavano in qualche modo un simbolo. Bene, uno di questi eroi della propaganda fascista era un sommergibilista e si chiamava Enzo Grossi. Enzo Grossi nel 1943 era probabilmente il più grande sommergibilista italiano, che è almeno quello più conosciuto in Italia, conosciuto per aver raccolto due vittorie che avevano dell'incredibile, riuscendo ad affondare col suo piccolo sottomarino due corazzate americane, due di quelle navi che sembravano essere imbattibili e che nemmeno i grandi sommergibilisti tedeschi sembravano riuscire a scalfire. Ma lui c'era riuscito e ovviamente il regime lo sfruttò per questo. Ma era vero? Era veramente riuscito ad affondare quelle due corazzate? La storia è abbastanza complessa e ne parleremo nella pillola che state per andare ad ascoltare. Quindi, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare. Enzo Grossi, pur essendo italiano, era nato in Brasile, si era poi trasferito nella sua patria d'origine, tornato nella sua patria d'origine e qui aveva iniziato la carriera proprio in marina, concentrandosi fin dall'inizio proprio sui sommergibili, che lo avevano sempre attirato. Non solo, ad agevolarlo nella sua carriera era stata anche la sua posizione politica, che, a differenza di alcuni esponenti della marina che erano un po' più tiepidi col regime, magari più legati alla casa regnante, nel suo caso lo vedevano invece essere molto vicino al regime fascista e di idee strettamente mussoliniane. Forse anche per questo, o per i suoi meriti, non c'è modo di capirlo, gli venne assegnato allo scolpio della guerra, o meglio gli era già assegnato prima dello scolpio della guerra, il comando di un sommergibile nel Mediterraneo, cioè il Medusa. Con il Medusa, fino a 1941 farà una decina di missioni, dalla zona della Corsica fino al Nord Africa, non riuscendo però mai a raccogliere nessuna vittoria, nessun affondamento di prestigio. E, nonostante questo, nel 1941 venne trasferito al comando di un altro sommergibile più grande, più potente e più moderno, cioè il sommergibile Barbarigo, che non incrociava nel Mediterraneo, ma incrociava nell'Atlantico, da dove, partendo dalla base dei sommergibili italiani nell'Atlantico, abbordò la cosiddetta Beta Somme e da qui andando a compiere delle missioni in Atlantico. Peraltro, dopo che ebbe lasciato il Medusa, il sommergibile fece purtroppo una bruttissima fine, perché sarà impiegato temporaneamente per addestramento, verrà poi riutilizzato come sommergibile operativo e verrà affondato proprio durante una di queste missioni. E l'affondamento sarà peraltro terribile perché non tutti i marinai moriranno subito, alcuni rimarranno intrappolati all'interno del sommergibile, ma a causa del mare mosso non sarà possibile andarli ad aiutare. Quando finalmente il sommergibile sarà raggiunto, purtroppo, erano ormai morti tutti. L'Agostino Barbarigo, invece, oltre a portare il nome dell'ammiraglio veneziano che combatte durante la battaglia di Lepanto, era un sommergibile decisamente più grande, adatto non alla navigazione mediterranea, per carità avrebbe potuto agire anche lì, ma adatto alla navigazione atlantica, quindi ad aiutare i sommergibili tedeschi che stavano combattendo proprio nell'Atlantico. Il Barbarigo, al comando di Grossi, farà alcune crociere nell'Atlantico, concentrandosi principalmente sull'Atlantico meridionale, sulle coste dell'America del Sud e sulle coste africane, ovviamente andando in cerca di prede. Il 20 maggio 1942, però, fece la sua prima grande impresa, il suo primo grande affondamento. Come descrisse successivamente, mentre si trovava con il suo sommergibile ad incrociare, non molto lontano dalla Tol de Rojas, in Brasile, a largo delle coste brasiliane, a largo di Capo Natal, vi metto magari qui vicino, la cartina, scoprì una nave. Era un piroscafo, forse era una petroliera, non era così sicuro della cosa, ma quando la avvistò si rese conto che poteva avvicinarla senza farsi scoprire. Le tese una trappola, lanciò un siluro e la colpì. La nave in realtà non affondò, e si guardò bene da lanciare un altro siluro, perché il suo obiettivo non era tanto colpire quella nave, quanto colpire eventuali navi da guerra che potessero accorrere per soccorrerla. E così in effetti fu. Quando scese la notte, delle navi arrivarono per aiutare quella nave, per aiutare quel piroscafo, e tra quelle navi, oltre ad un velo di caccia torpediniere, Grossi, avvisato dal suo ufficiale, che era di guardia, al periscopio, addirittura riconobbe una corazzata. Non era una corazzata qualunque, era una corazzata americana, che lui riconobbe dalla silhouette che si stagliava sullo sfondo della luna, riconobbe come una corazzata, lui dice, di classe Maryland o di classe California. In realtà la Maryland e la California sono due corazzate, il nome della corazzata, la classe, sarebbe Colorado o Tennessee. In effetti sono due navi di classe diversa, voi direte, come ha fatto a non riconoscere che tipo di corazzata fosse, provate a immaginare, riconoscere una nave in piena notte, col buio, non è che sono lì a illuminarla per farsi scoprire, inoltre queste due classi di corazzate sono in effetti molto molto simili, differiscono per i cannoni, qualche particolare, ma come lunghezza, stazza, sono in effetti molto molto simili. Colpire una di quelle corazzate era in effetti difficile, era di effetti difficile vuoi per le cacciatropediniere, che potevano scoprire e poi attaccare il sottomarino, vuoi perché quelle corazzate sono ovviamente molto resistenti, e pensare di affondarle solo con qualche siluro poteva essere difficile. Ma come raccontò, Grossi decise comunque di provarci, e con grande ardimento si infilò con il suo sottomarino al di sotto delle cacciatropediniere, si avvicinò alla corazzata e lanciò due siluri. Ne lanciò solamente due, forse perché aveva a disposizione solo quelli, forse perché credeva che sarebbero bastati, e dopodiché si inabissò, cercando di allontanarsi. La scelta fu fortunata, perché mentre stava tornando indietro, allontanandosi dalle cacciatropediniere, sentì due esplosioni. I siluri, così pensò, avevano colpito. E in effetti, quando si fu allontanato, e scoperto che le cacciatropediniere non lo stavano inseguendo, ma si stavano allontanando insieme alla corazzata stessa, quasi volessero supportarla, riuscì ad osservare che la corazzata era stata colpita. Era stata colpita pesantemente, e anzi, mentre si allontanava all'orizzonte, sembrava starsi inclinando, per poi andare ad affondare. Inutile dire che questa vittoria era qualcosa di strepitoso. Affondare una corazzata, una nave che aveva a bordo più di mille marinai, era un'impresa incredibile. Un'impresa che in Italia, si sapeva, l'avrebbe visto premiato addirittura con una medaglia d'oro. Non fece passare tanto tempo. Appena si fu allontanato a sufficienza, decise di far sapere a Betasom, alla base di Bordeaux, quello che era avvenuto. Raccontò come era avvenuto l'affondamento, raccontò come si era allontanato, e ovviamente aspettò che questi trasmettessero la notizia a Roma. A Betasom, però, qualche dubbio era venuto sul racconto. Era venuto qualche dubbio, innanzitutto perché sembrava un po' inverosimile che la nave fosse stata affondata in quel modo. Sembrava ancora più inverosimile quando venne fuori che non erano stati utilizzati i siluri più grandi a disposizione del sommergibile barbarigo, ma erano stati utilizzati due siluri più piccoli, che venivano chiamati silurotti, che di solito si utilizzavano per navi di stazza decisamente più contenuta. Poi, per carità, un tiro poteva anche essere stato fortunato, poteva aver colpito un punto critico della nave, però certo che tutto questo sicuramente aveva bisogno di qualche controllo. Controllo che quando gli italiani provarono ad andare a fare, ovviamente tramite le loro spie, in realtà non portò a nulla, perché non solo le spie non avevano saputo di navi di corazzate americane affondate, una notizia che non poteva non aver circolato in ambienti della marina, ma soprattutto sembrava che non avessero notizie di nessuna corazzata americana nella zona. La notizia, però, intanto a Roma era già arrivata, e a Roma, in un periodo in cui le cose nel mare non andavano così bene, avere una notizia del genere da rilanciare al popolo italiano non sembrava vero, e quindi, senza aspettare nessun controllo, da Roma decisero di annunciare ufficialmente l'affondamento, iniziare a stampare manifesti, cartoline di propaganda, raccontando quello che era avvenuto, e vantare presso la popolazione una vittoria incredibile. Una vittoria che esattamente come previsto meritò a Grossi proprio una medaglia d'oro. A credere a questo affondamento furono anche i tedeschi, che premiarono Grossi con una croce di ferro, come fosse stato un sommergibilista tedesco, mentre ovviamente ci credettero molto meno gli alleati, che quando la notizia iniziò a circolare si affrettarono a smentirla, dicendo appunto che loro non avevano subito l'affondamento di nessuna corazzata, e che soprattutto di corazzate nella zona non ne avevano nessuna. Ora, ovviamente in Italia la cosa venne presa come una smentita d'obbligo, una smentita che gli alleati avevano fatto non potendo ammettere una sconfitta così terrificante, una smentita che però non valeva nulla, perché loro avevano la dichiarazione di Grossi e quella bastava e avanzava. Ora, la storia sarebbe già interessante se si fermasse qua, ma in realtà pochi mesi dopo, il 6 ottobre del 1942, Grossi fece un altro affondamento. Questa volta non si trovava a largo delle coste del Brasile, ma a largo delle coste della Sierra Leone, in Africa, non lontano dalla capitale, Freetown, e proprio mentre anche in questo caso si accingeva di notte alla ricerca di prede, vide arrivare una nave. Le cose andarono non molto diversamente rispetto a qualche mese prima, anche questa volta ad avvistarla fu l'ufficiale incaricato della cosa, anche questa volta la sagoma della nave sembrava essere quella di una nave molto, molto grande, e soprattutto di una nave che meritava un attacco. Questa volta non c'era uno schermo di caccia torpediniere, Grossi pensò forse che il motivo era che la nave era sicura di navigare in quelle acque, o forse che stava per andarsi a ricongiungere con un'altra forza, ma capì che non c'era tempo da perdere, per questo portò il suo sommergibile in immersione si avvicinò il più possibile alla nave e quando fu a distanza adeguata lanciò quattro siluri. Quattro siluri che dopo essersi immerso sentì esplodere uno dopo l'altro, in quattro esplosioni che non potevano non aver squassato quella nave. Quando riemerse a quota periscopio vide che effettivamente la nave era stata colpita, che si stava inabissando e mentre lo faceva illuminata dai luci dei riflettori, si rese conto che ancora una volta aveva colpito una corazzata americana. Questa volta che venne definita di classe Mississippi, anche in questo caso Mississippi in realtà è il nome della nave, ed era di classe New Mexico. Ancora una volta una grande corazzata americana affondata da Grossi. Anche questa volta la notizia arrivò a Betasom. Anche questa volta Betasom avanzò grandissimi dubbi, anche perché non avevano veramente nessuna informazione di corazzate nella zona. Anche questa volta ci furono grossi dubbi sullo svolgersi degli avvenimenti, anche perché Grossi fu meno preciso nel raccontare quello che era avvenuto e sembrava un po' strana come storia, ma anche questa volta quando la notizia raggiunse Roma tutti gli credettero subito. Annunciarono al mondo e all'Italia del secondo affondamento, ci furono titoli di giornali, grida di giubilo per quel grande eroe della marina italiana e ancora una volta gli credettero anche i tedeschi che, partendo la volontà dallo stesso ammiraglio Dönitz, decisero di conferirgli addirittura una croce di ferro da cavaliere, quindi il livello successivo rispetto a quello che aveva già ottenuto. Non solo, ma per i suoi meriti e forse temendo che prima o poi potesse essere affondato e quindi di perdere un eroe, si decise addirittura di promuovere Grossi facendolo diventare il nuovo comandante di Betasom della base appunto di Bordeaux, sostituendo l'allora comandante cioè l'ammiraglio Polacchini che peraltro era uno tra quelli più dubbiosi sul reale affondamento delle due corazzate, mandando Polacchini a Palermo e promuovendo appunto Grossi a Bordeaux. Anche questa volta, inutile dirlo, gli americani smentirono tutto, anche questa volta la cosa non fu creduta. L'aver lasciato gli impieghi operativi forse gli salverà la vita perché in effetti il barbarigo che sarà poi trasformato in un sommergibile per portare del materiale in un sommergibile da trasporto sarà in effetti affondato nel 1943 mentre si recava con del materiale verso l'Oriente di lui si persero tutte le tracce e probabilmente fu affondato proprio dagli alleati. A Betasom però Grossi continuò a comandare e dopo l'8 settembre da fascista convinto qual era decise di aderire alla Repubblica Sociale fece parte ovviamente delle forze militari della Repubblica Sociale cercò di preparare dei corpi militari riunendo quei marinai e quei soldati di marina che si trovavano nella zona e continuò a combattere fino alla fine della guerra. Polacchini che era stato da lui sostituito invece era stato mandato a Palermo una piazza decisamente meno importante dove però si fece notare per le sue grandi capacità dal punto di vista logistico tanto da meritarsi anche una medaglia d'argento e tornato nel nord Italia l'8 settembre decise sì di aderire all'RSI ma solo perché costretto dal fatto che altrimenti sarebbe stato deportato in Germania. in realtà la sua adesione fu solo di facciata perché collaborò a lungo con il comitato Alta Italia quindi con i partigiani e alla fine fu anche messo in galera per questo e fu liberato solo grazie a un qualche intervento che riuscì a salvarlo e a permettergli di passare il resto della guerra a casa. Finita la guerra nel 1950 qualcuno però propose di riaprire il caso di riaprire il caso e di andare a capire se veramente questi due affondamenti vantati da Grossi fossero stati reali proprio perché gli alleati avevano continuato a smentire quegli affondamenti anche dopo la fine della guerra quando ormai motivazioni propagandistiche non ve ne erano più e si sarebbe anche potuto ammettere che in effetti si erano perse due corazzate in quel modo. L'inchiesta venne aperta e dopo aver sentito vari testimoni alla fine si decise che quegli affondamenti non erano mai avvenuti che Grossi li aveva millantati che non vi era nessuna prova in tal senso e si decise quindi di privarlo del grado che aveva ottenuto grazie a quelle vittorie e soprattutto privarlo della medaglia d'oro. Grossi che aveva già lasciato l'Italia anche appunto per i suoi legami con il regime fascista ovviamente protestò a lungo e disse espressamente che il motivo per cui gli era stato fatto quel processo e gli erano state tolte quelle vittorie era solo per la sua fede politica che lui in realtà quelle vittorie le aveva ottenute e che si stava cercando di nasconderle solo per non far vergognare il nuovo alleato americano. La cosa sarebbe probabilmente rimasta lì non fosse che ad intervenire nella questione molto a gamba tesa fu Antonino Trizzino. Ora Trizzino forse lo conoscete chi è appassionato di Marina o chi su YouTube segue Metal Mike e Freeman perché ha scritto un libro che si chiama Navi e Poltrone un libro molto aggressivo verso l'operato della marina italiana nella seconda guerra mondiale un libro in cui sostanzialmente si accusava gli ammiragli italiani di aver collaborato almeno una parte di loro con il nemico per far fallire la guerra un libro che all'epoca fece un grosso scalpore piacque tantissimo negli ambienti neofascisti a cui peraltro Trizzino era probabilmente vicino perché in qualche modo scagionava l'operato del regime dalla sconfitta dando la colpa a tutti gli effetti a questo tradimento della marina un libro che poi negli anni è stato ampiamente smentito soprattutto quando è venuto fuori che il motivo per cui gli alleati sapevano dei movimenti della marina non era perché c'era stato un tradimento ma perché avevano tradotto i codici tedeschi e questo permetteva loro di sapere sempre in anticipo che cosa stesse facendo la marina le accuse di Trizzino grazie anche al clamore del libro ovviamente rimbalzarono su tutti i giornali e spinsero ad un certo punto a riaprire la questione anche perché lo stesso Trizzino diceva esattamente come Grossi che il motivo per cui gli era stato tolto quell'affondamento era semplicemente per la sua fede politica ad ogni modo finalmente nel 1962 la questione venne riaperta si andarono a valutare quelli che erano stati i risultati della commissione precedente vennero in effetti notati degli errori si disse che erano state fatte lasciate delle mancanze non c'erano non erano stati presi in considerazione molti aspetti e si decise quindi di andare a fondo nel problema chiedendo agli alleati di fornire tutti i vari diari di bordo delle navi che nei giorni che erano stati indicati da Grossi avevano in effetti incrociato in quella zona e si scoprì così probabilmente la verità perché i diari di bordo delle navi erano perfettamente coincidenti con quello che aveva detto Grossi tranne che per alcuni piccolissimi particolari nel primo caso l'affondamento che sarebbe dovuto avvenire a largo delle coste brasiliane in effetti inizialmente le cose erano andate come aveva detto Grossi un piroscafo il comandante lira brasiliano era stato in effetti colpito da un siluro ad avvicinarsi per aiutarlo però non era stata una corazzata ma era stato un incrociatore il miluocchi che in effetti come vagamente come dimensioni come lunghezza potrebbe ricordare una corazzata e in piena notte aver mandato in errore i sommergibilisti italiani quello che però avvenne quando il miluocchi si avvicinò è che la nave riuscì a soccorrere la comandante lira e a tornarsene senza nessun problema indietro in patria quindi se veramente quei due siluri sono stati lanciati non hanno in nessun modo colpito la nave e l'errore così giunsero a dire i giudici fu nell'aver interpretato dei rumori diversi come delle esplosioni e nell'aver scambiato l'allontanamento della nave che in mezzo al mare mosso spariva all'orizzonte come un suo affondamento insomma la prima corazzata non era una corazzata e non era neanche affondata nel secondo caso quello invece a largo della Sierra Leone le cose erano andate se possibile in maniera ancora più complessa perché questa volta la nave che si era avvicinata non solo non era una corazzata ma era una nave molto più piccola di una corazzata si trattava in questo caso di una corvetta inglese che si chiamava Petugna che era lunga larga circa un terzo rispetto alla corazzata quindi francamente era difficile poterla confondere per una corazzata anche in piena notte e che soprattutto dislocava molto molto meno insomma una nave molto più piccola di quella che si diceva che fosse stata affondata non solo anche in questo caso l'affondamento non era avvenuto perché i siluri che probabilmente erano stati programmati per scendere a una profondità tale da poter colpire una corazzata erano in realtà passati sotto alla Petugna che ovviamente essendo più piccola si immergeva meno rispetto ad una corazzata Petugna che però aveva in effetti visto passare i siluri e che quindi aveva sganciato delle bombe di profondità allontanandosi un po' nel panico e che probabilmente potevano essere stati scambiati per delle esplosioni la commissione dopo aver raccolto tutte queste informazioni non poté che confermare quello che aveva detto la commissione precedente cioè che gli affondamenti non erano mai avvenuti la medaglia non aveva senso che fosse stata concessa così come le promozioni ma diciamo anche un modo per chiudere la storia a differenza di quella precedente disse che non c'era stato del dolo da parte di Grossi nel riferire gli affondamenti solo degli errori fatti che lo avevano portato a valutare in maniera errata le cose poi ripeto soprattutto nel secondo caso ve ne più volte è fatto notare come fosse difficile confondere una corazzata che affonda con un piroscofo a galla ma questa è oggettivamente un'altra storia Grossi però non seppe mai di questi risultati perché era morto nel 1960 e quindi non seppe mai della riapertura e della definitiva chiusura del caso chi lo seppe fu invece Romolo Polacchini che a distanza di anni ebbe finalmente la conferma che i suoi dubbi erano stati sensati e in effetti dopo la seconda guerra mondiale lui invece la sua carriera la continuò e morì poi nel 1968 un'ultima curiosità tutte le navi che abbiamo citato in questa storia le tre corazzate che poi non esiste non erano quelle perché ricordate che nel primo caso c'era il dubbio se fosse la Maryland oppure la California e dall'altra parte invece la Mississippi e le due navi che in realtà erano in mezzo a questa discussione cioè l'incrociatore Milwaukee e la Petunia bene tutte e cinque le navi sopravvissero al conflitto sopravvissero al secondo conflitto mondiale addirittura la Milwaukee combattè per gli Stati Uniti e poi venne ceduta all'Unione Sovietica e combattè per un periodo anche proprio per l'Unione Sovietica prima di essere restituita agli Stati Uniti quindi se non altro se non si trattava di bugie quantomeno però avevano portato bene alle navi che erano riuscite ad arrivare sane e salve alla fine del conflitto e qui direi che ci fermiamo veramente spero che la pidola vi sia piaciuta ho cercato di usare meno termini tecnici possibili perché ammetto che dal punto di vista tecnico-ingegneristico io di navi ne capisca veramente molto molto poco ma in questo caso la cosa interessante era ovviamente la storia in sé e i suoi protagonisti come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti in particolare oggi vorrei ringraziare Francesco Conforti grazie mille tantissimo per il tuo aiuto per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pidola uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pidola di storia a presto ciao ciao ciao